Questa. Guardate questa faccia. Mandate questo video a tutti i calciatori del Milan e diteli di guardare questa faccia. Guardate come avete ridotto i tifosi del Milan. Questa è la faccia di un uomo devastato. Questa è la faccia di un uomo che ha due punti in tre partite e in piena lotta per la salvezza per non andare in Serie B. Quindi questa è la faccia che avete creato. Questa è la faccia di uno che ha dovuto riguardare e ripensare alla partita per poter fare delle pagelle. Questa è la faccia di chi ieri ha dovuto rimpiangere la presenza di Davide Calabria in campo. E ho detto tutto. Non pensavo mai di poterlo dire nella vita. Ma ieri ne ho trovato uno che è stato peggio di Calabria. E credo fosse impossibile. E oggi questa maglietta è tutta in suo onore. Il brasiliano o meno brasiliano della storia l'abbiamo preso noi. Signori lasciate un like per supportare la serie delle pagelle ma soprattutto il coraggio di quest'uomo. Perché in questo momento tifare Milan e fare magari lo sfogo ci può anche stare. Anche magari una roba che ti può aiutare. Infatti ieri non mi sono sfogato. Ieri non riuscivo a far esplodere la mia rabbia. Ci ho provato ma non ce l'ho fatta. E questa è la situazione. Quando voi mi dite eh Fred fai lo sfogo forse esagerato ti rovini la salute. No no in realtà lo sfogo mi aiuta nella salute. E quando non mi sfogo che poi il giorno dopo mi ritrovo così come uno zombie come un cadavere. Perché sfogarmi mi fa uscire tutto fuori e poi il giorno dopo la vivo un po' meglio. E invece quando non mi sfogo sto male fisicamente. Cioè io oggi sto male fisicamente. Quindi il like è solo per il coraggio che ha quest'uomo nel fare le pagelle. Non posso neanche chiamarli calciatori. Dai sarebbe un insulto al mondo del calcio. Non posso chiamarli calciatori. A quegli esseri che fanno finta di correre in mezzo al campo con la maglia del Milan. Ok? Se vi va sotto lasciatemi tanti bei commenti con il vostro migliore e con i vostri peggiori in campo. Perché non ce ne può essere solo uno in quella disgraziata partita. Anche se secondo me ce n'è uno che potrebbe mettere tutti d'accordo. Ed è a questa nazionalità. Vediamo. Sono curioso di sapere il vostro peggiore in campo. Se volete fatemi tutta la lista. Me la guardo sempre molto volentieri. Cominciamo dal nostro portierone. Magic Mike Magnan. Voto 6. Perché secondo me è incolpevole sui due gol. Non può fare niente. Li segnano praticamente nell'area piccola. Con dei tap-in. Quindi che cosa deve fare? E in realtà potevano farci anche il terzo gol con la stessa identica azione. Ma lui va a chiudere su Zaccagni. Quindi il suo dovere l'ha fatto. Non è colpevole. Quindi sufficienza per Mike. Tomori. Voto 5. Disastroso in fase di impostazione. Continua a passare la palla agli avversari. Ed è una roba che non si può vedere più. C'è veramente i piedi quadrati Tomori. Quando passa la palla è sempre tutto scoordinato. Tutto storto. Io non so più che cosa dire. Ma la cosa ancora più grave è che in fase difensiva ormai è un colabrodo. È sempre fuori posizione. Nel primo tempo ci stava facendo prendere un gol nei primi minuti. Ancora una volta. Perché non sapeva lì dove andare a marcare. E' andato completamente a lasciare l'uomo solo. Quindi è andato a vuoto. Nel secondo tempo quando prendiamo il primo gol esce a centrocampo. Non ha capito che non deve fare quel movimento. Perché sarà sempre un movimento deleterio per la difesa del Milan. Ogni volta prendiamo gol. E lui non sta nemmeno nell'inquadratura. Quindi un Tomori secondo me non all'altezza. E che bisogna far provare un po' la panchina anche a lui. E perché secondo me ci sono lì i sostituti. Uno su tutti è Gabbia. Che vorrei vedere in campo. Adesso è sparito. Mi dite che fine ha fatto Gabbia? Pavlovich voto 6,5. Mezzo voto in meno per il secondo gol. Perché secondo me sul secondo gol ha un po' di colpe. Perché lì si perde di A. E' bravo di A a smarcarsi. Però Pavlovich doveva usare un po' più di esperienza. E magari invece di trattenerlo andare a coprire quello spazio. E magari provare l'anticipo. Purtroppo non ci è riuscito. Però c'è da dire che ha fatto un grandissimo gol con una furbizia assurda. Perché quel gol non è solo essere bravi di testa. Ma essere anche furbi e saper fare il movimento giusto. Perché parte da dietro e poi con la difesa zona della Lazio. Si infila in mezzo e li buca. L'ha bucato una volta e ha rischiato di bucarle altre due o tre volte. Il cross non era preciso ma lui ha fatto sempre il movimento giusto. Ha salvato un gol sulla linea con la palla che stava entrando. Non ha sbagliato manco mezzo intervento nel primo tempo. Li ha azzeccati tutti. Nel secondo tempo ha fatto qualche sbavatura ma poi andava lui stesso a recuperare. Quindi diciamo che è una partita da sette macchiata un po' secondo me dall'errore sul secondo gol. Il brasiliano. Emerson Royal. L'uomo che mi ha fatto rimpiangere Calabria. E non pensavo potesse mai succedere nella mia vita. Io non so che dire. Ho sempre dato il beneficio del dubbio. Quando l'abbiamo comprato tutti mi venivano a scrivere. Fred è scarso. Fred abbiamo preso un bidone. Fred abbiamo preso un cesso. Non volevo crederci. Ero talmente troppo contento di aver comprato un terzino destro che non volevo crederci. Poi ho visto il prezzo. Non era un prezzo basso. Un prezzo altissimo in realtà per un terzino. E allora ho voluto crederci. Ho voluto dare fiducia a questa dirigenza. Ho voluto credere che... Ma in realtà era soltanto una speranza. Perché era un terzino destro. Fosse stato un altro giocatore probabilmente avrei avuto meno fiducia. Ma avevo bisogno di credere. Avevo bisogno. Nella partita col Parma l'ho difeso. Ho detto non è colpa sua. Ho detto aspettiamo a giudicarlo. Adesso. Non sa attaccare. Non sa difendere. Lascia dei buchi clamorosi dietro. Ha zero personalità. Perché ogni volta che prende la palla sembra un cucciolo impaurito. L'unica cosa che sa fare è fare un retropassaggio. Signori. Da quello che ho visto ieri. Non voglio dare un giudizio generale. Non voglio dare un giudizio finale. Ma da quello che ho visto ieri. Emerson Royale è più scarso di Davide Calabria. Voto due. Perché ieri praticamente prendiamo il gol. Sempre dal suo lato. Perché non riesce a marcare. E' un giocatore tra virgolette era il terzino bloccato. Cioè questa è una cosa grave. Molti dicono. Ah ma non è colpa di Royale. È colpa dell'allenatore che fa alzare i terzini. Emerson Royale. Ieri era il terzino bloccato. L'ha confermato anche Terracciano a fine primo tempo. Ha detto sì. Io ho i compiti di andare un po' più avanti. Mentre Emerson è quello bloccato. Un terzino bloccato che si fa infilare minimo sei volte. Bloccato. Sei volte. Che non attacca mai. Non l'ho visto superare il centrocampo. Sempre timido. Sempre retropassaggi. Veramente. Non pensavo mai nella vita. Ma ho rimpianto Calabria. Terracciano. Altro bello mio. Voto. 4,5. Sicuramente meno dannoso rispetto a Emerson Royale. Un primo tempo anche decente. Anche se fa dei movimenti che non sono i suoi. Vai in attacco. Si accenta. Quella è roba per Teo Hernandez. Non sono i movimenti di Terracciano. Non è che se giochi al posto di Teo Hernandez. Puoi fare il ruolo di Teo Hernandez. E muoverti come Teo Hernandez. Quella è follia dell'allenatore. Pensare a una roba del genere. Terracciano alla fine era a poche colpe. Perché veniva guidato dall'allenatore. Diciamo che lì il 90% delle colpe sono di Fonseca. Che mandava Terracciano allo scoperto. A correre totalmente a caso. Giocatore scarso. Non c'è nulla da dire. Sicuramente meglio rispetto a Emerson. Ma comunque anche lui. Un giocatore che è un passo indietro rispetto a Calabria. Ieri abbiamo giocato con due terzini che sono più scarsi di Calabria. E noi abbiamo regalato Calulu alla Juventus. Che poteva fare il terzino. Non aggiungo altro. Passiamo adesso al centrocampo. Fofanà. Voto 6. A me non è dispiaciuto Fofanà. Ho letto alcune critiche. Secondo me non giuste. Mi è piaciuto come ha voluto interpretare il ruolo. E secondo me è il modo giusto per interpretarlo. Chi fa il mediano lì. Non deve stare troppo con il pallone. Non deve rallentare la manovra. Deve giocare uno o due tocchi. E ieri mi è piaciuto. Perché era sempre a uno o due tocchi. Sembrava quasi fosse un compito in allenamento. Quando devi giocare a uno o due tocchi. Che quindi ha velocizzato un po' la manovra. Che comunque era lenta di sua. Lui ci provava a velocizzare. Però poi gli altri si addormentavano accanto a lui. E dal punto di vista difensivo. Gli ho visto recuperare un paio di palloni. Gli ho visto mantenere la posizione. Non è il classico mediano che rimane lì dietro. Comunque uno che gli piace strappare. Gli piace comunque avanzare con il pallone. Non male. Sicuramente la forma fisica non è eccellente. Infatti poi è andato sempre di più a calare. Però è un giocatore interessante. Che secondo me potrebbe far bene. Chi invece ieri fisicamente non c'era completamente. Tiziani Renders. Voto 5 e mezzo. È stato sempre fuori partita. Dal punto di vista difensivo ha dato la copertura. Perché il Milan nel primo tempo non ha rischiato praticamente nulla. Eravamo belli compatti. Non eravamo sbilanciati. Non abbiamo preso i soliti contropiedi. Non abbiamo preso le solite imbucate. E questo è grazie anche a Fofana Renders. Che secondo me è una buonissima coppia di centrocampisti. Il problema è che però Renders deve fare qualcosa anche lì in avanti. E lì in avanti ha toccato tipo tre palloni in croce dando la palla sempre al compagno vicino. Mai facendo la sua giocata. La sua famosa verticalizzazione. Quindi un Renders completamente fuori dal match. L'off to check voto 6 e meno. Perché a me non è dispiaciuto e voglio premiarlo con questo 6 e meno. Perché sicuramente molti avranno dato l'insufficienza all'off to check. Ma secondo me merita questa sufficienza proprio base risicata. Perché si è visto qualcosa in più rispetto a Torino e Parma. Ecco solo per questo. Se dovessi giudicare l'off to check per il suo valore. Per quello che abbiamo visto la scorsa stagione. Allora sarebbe una partita insufficiente. Ma rispetto a quello che ho visto nelle prime due partite ho visto un giocatore vivo. Almeno questo. Un giocatore che ci ha provato. Due o tre strappi li ha fatte. Ha guadagnato qualche punizione. Ha recuperato qualche pallone. Sicuramente da trequartista non mi fa impazzire. Sono ancora convinto che l'off to check giocherebbe molto meglio in un 4-3-3. Sarebbe molto più libero di avanzare, di salire e di scendere. Da trequartista ieri addirittura molto avanzato. Quasi accanto alla punta. Ma non mi piace col ruolo per l'off to check. Secondo me è un po' sprecato. Da mediano un po' sprecato. L'off to check è condannato a giocare nel 4-3-3. Quindi se dovessero cambiare modulo. L'off to check è quello secondo me che ne beneficerebbe di più. Passiamo adesso all'attacco. Cucuese. Voto 4,5. Tanto impegno. Perché non lo si può negare. In questo periodo c'è molto un dibattito. Sui giocatori che si impegnano. Sui giocatori che non si impegnano. Sui giocatori che hanno voglia. Cucuese ha tutta la voglia del mondo. Di dimostrare e quindi per questo non andrò sul pesante su di lui. Perché per me uno che ci mette il massimo. Il 100% dell'impegno. Merita comunque rispetto. Però non ci siamo. Non ci siamo. Tutto fumo e niente arrosso. Mi ha scritto ieri un ragazzo in chat. Aveva ragione. Perché è tutto lì che fa. Si muove. Si sbatte. Si fa. Ma poi torna indietro. Passa la palla indietro. Non va mai in avanti. Non punta mai l'uomo. Non lo salta. È un Cucuese completamente inutile. In questo momento. Ed è un peccato. Perché ha delle caratteristiche interessanti. E io sono ancora qui ad aspettarlo. Quest'anno mi sono anche comprato la maglia di Cucuese. Per quanto io credessi in lui. Per quanto io pensassi. No. Nel video dicevo sempre. Per me Cucuese sarà il vero nuovo acquisto dell'attacco del Milan. Beh ragazzi. Un'altra partita. In cui gli viene data un'altra chance. E lui la spreca. E non si può. L'anno scorso aveva delle scuse. Perché c'era Pioli che non lo vedeva tantissimo. E quindi potevamo dare la colpa a Pioli. Quest'anno colpi a Fonseca. Io su Cucuese non gliene posso dare. Perché Fonseca ci sta provando in tutti i modi a riabilitare questo calciatore. E' lui che non riesce proprio a fare quel salto in più. Sicuramente. Ripeto. Ho ancora fiducia in Cucuese. Non è che dopo tre giornate la mia fiducia è finita. Ho ancora tanta fiducia in Cucuese. Però. Per adesso. Non ci siamo. Cristian Pulisic. Voto sei e mezzo. Se tutti avessero la voglia. La leadership. Il carattere. Lo spirito di sacrificio di Cristian Pulisic. Il Milan sicuramente non avrebbe due punti in tre partite. Perché sei e mezzo. Gran partita. Giocatore che tatticamente dà una mano alla squadra in maniera incredibile. Lo vedi sempre ritornare. Correre a destra e a sinistra. Nel primo tempo è stato uno dei migliori in campo. Quasi sempre cercato. Lui veniva a prendersi il pallone. Sulla sinistra. L'ho sempre detto ormai da quando è arrivato. Lo trovo sempre molto più a suo agio rispetto che sulla destra. Perché ha questo movimento a rientrare. Quindi un po' non riesci a capire dove va. Se va dritto o se rientra. Mentre invece quando gioca a destra è un po' più prevedibile. E lo portano spesso sul sinistro. Perché sanno che il suo piede è debole. Però è un giocatore veramente di una qualità incredibile. Anche ieri l'ha dimostrato. È stato il vero leader della squadra. Okafor. Voto sei e mezzo. A me è piaciuto tantissimo. Ho visto addirittura delle testate giornalistiche dare l'insufficienza da Okafor. E secondo me non guardano la partita. Cioè per me è impossibile dare l'insufficienza a un giocatore che ha dato tutto ieri in campo. Non è un attaccante. E quindi se gioca ad attaccante non gli dovete rompere le palle. Ok? Partiamo da questo presupposto. Se Okafor deve tenerti palla. E deve fare magari il lavoro che ha fatto Ebram nel secondo tempo. Okafor non lo può fare. Perché non è un attaccante. Non è strutturato fisicamente per fare l'attaccante. Non ha i movimenti d'attaccante. Ieri ha fatto quel ruolo in una maniera intelligente. Cioè allargandosi sempre a sinistra. Che è il suo vero ruolo. Ed è stato pericoloso. 4-5 volte ha superato l'uomo. Ha creato superiorità numerica. E questo. È così che deve interpretare il ruolo Okafor. Okafor comunque è un giocatore forte. A prescindere se giochi centrale. Se giochi esterno. È un giocatore che è forte. E quindi va messo sempre in campo. Okafor dovrebbe sempre giocare. Se non da titolare. Da subentrato. Ma dovrebbe sempre sempre giocare. E in questa veste d'attaccante che si allarga. Mi è piaciuto molto di più. Rispetto magari alla partita di Parma. In cui è rimasto lì centrale. Toccando due palloni in croce. Questa versione di Okafor centravanti. Non mi dispiace. E poi ovvio. Che quando è entrato Abraham. Abbiamo visto che cosa fa l'attaccante. Che movimenti fa l'attaccante. Sono completamente diversi. Però. E siamo in emergenza. Alla terza giornata. Parliamo adesso dei subentrati. Ovviamente ragazzi. Non parlerò di quello che è successo nel cooling break. Ne parlerò magari in un altro video. Magari ne parlo domani. Fatemelo sapere. Se volete un video su questa situazione. Cerchiamo di andare ad analizzare. Cosa hanno detto i protagonisti. Ma nelle pagelle. Onestamente vorrei parlare di campo. Vorrei evitare. Tutto quello che è successo poi. Batti i becchi. Litigi. Spogliatoio spaccato. Vorrei evitare in questo video. Vorrei soltanto. Andare a parlare di campo. E Teo Hernandez. Si merita un 6. Perché è stato protagonista. Nell'azione del 2 a 2. Sono entrati con rabbia. Con voglia. E gli ho visto fare uno scatto. E arrivare lì. E fare il passaggio giusto. Con freddezza. Però il problema è che poi. Dopo quel passaggio. Non ha fatto più niente. Si è messo lì sulla fascia. Ha completamente trotterellato. Non chiedeva palla. Non si faceva vedere. Non è stato mai pericoloso. Il 6. E' giusto. Perché alla fine. Siamo riusciti a strappare un punto. Ed è anche merito di Teo Hernandez. Musa. Voto. 6 anche per lui. Mi è piaciuto come è entrato in campo. Ci ha messo tanta grinta. Tanta corsa. Ovviamente. La qualità è quella. Ma. In quella partita. Ha sostituito. Reinders. Che comunque. Non è che stesse dando. Tutta questa grande qualità. Quindi non mi sono accorto. Della differenza. Di solito. Quando entra Musa. Al posto di Reinders. È un po' una catastrofe. Ieri. Non è stato così. Perché il rendimento di Reinders. È stato talmente tanto basso. Che Musa. Quando è entrato. Non ha sfigurato. Quindi. È riuscito a fare. Qualche ripartenza. A recuperare qualche pallone. Ma soprattutto. A cercare di dare un equilibrio. A un reparto. Ieri. Che nel secondo tempo. È andato molto in difficoltà. Leao. Sono stato molto indeciso. Sul voto a Leao. Ma voglio dargli sette. Perché. Ripeto. Non voglio considerare. Quello che è successo. Prima della partita. Quello che è successo. Nel quell'in break. Voglio parlare della partita. E quello è il Leao. Che ci serve a noi. Un Leao cattivo. Un Leao voglioso. Un Leao che viene a centrocampo. A prendersi il pallone. Cioè. Sul gol. È stato bravissimo. Perché ha fatto un bel movimento. Ha dialogato benissimo con Abra. Ha corso. Cosa importante. Ed è stato freddo davanti alla porta. Calciando bene in porta. Che. Calciare bene. Accanto alla parola Leao. È abbastanza strano. Perché Leao è uno che non sa calciare. Quindi per me. Ha fatto una grandissima prestazione. Ieri Leao. Perché poi. Dopo il gol. L'ho visto vivo. L'ho visto cercare il dribbling. L'ho visto venire. A prendersi il pallone. Che è una cosa importante. C'era un certo punto. Fofanava aveva la palla. Lui è venuto. E se l'è presa. E poi. Ha fatto un 1-2 con Abram. Sembra che si stia trovando molto bene con Abram. Si cercano spesso i due. Poi è stato atterrato. Con un fallo netto. Al limite dell'aria. L'arbitro ha fatto finta di nulla. Però mi è piaciuto l'atteggiamento di Leao. Ovvio che la faccia è sempre quella. È sempre ciondolante. Ma a me non me ne frega niente. Facevo un discorso l'altra volta. In cui parlavo del riscaldamento di Leao. Che è imbarazzante. Però poi. Se mi giochi in campo con cattiveria. A me del tuo riscaldamento. Non me ne frega niente. Il problema è che la partita di Leao. Durante la partita con quel ciondolare. Però ieri mi è piaciuto. Forse questa corosa della panchina. L'ha fatto arrabbiare. L'ha fatto caricare. Infatti aveva uno sguardo che non avevo mai visto. Poi vabbè. A fine partita ha sorriso. Ha fatto. Rideva. Tanto lui. Che cazzo gliene fotte. Che pareggiato. Che vinto. L'interessa. Però. In questo momento. Teo e Leao. Devono trovare quella motivazione. Per giocare per loro stessi. Perché l'abbiamo capito. Non gliene frega niente del Milan. Non gliene frega niente dei tifosi. Anche se vi mettono i cuoricini rossoneri. E voi vi eccitate. Non gliene fotte un cazzo a Leao del Milan. Non gliene frega niente dell'allenatore. Quindi Leao in questo momento. L'unico stimolo che può trovare. È giocare per se stesso. Per cercare di dimostrare. Di essere un gran calciatore. E ieri ho visto questo. Un Leao. Propositivo per se stesso. Per cercare di dimostrare. Che lui è bravo. Ma non gliene frega niente del risultato. Non gliene frega niente del Milan. Però. Quello che volevo vedere da Leao. È questo. Poi Leao può sbagliarti la giocata. Può tirare fuori. Può sbagliare il dribbling. Io accetto tutto. Non penso che Leao sia Vinicius Junior. Che deve fare sempre una partita clamorosa. Però voglio vedere l'atteggiamento. E ieri ho visto un briciolo di atteggiamento. Nel cercare di prendere palla. Di tirare. Di fare. Niente di clamoroso. Però. Per Leao già è tanto. Abram. Voto 6+. Mi è piaciuto come è entrato. Sapete già tutti quanti. Quanto io abbia criticato. Il suo acquisto. Perché è un calciatore che secondo me fisicamente non sta bene. Che non è un grandissimo calciatore. Ma ieri è entrato benissimo in campo. Ha partecipato all'azione del gol. È stato molto utile anche poi nei movimenti. Sicuramente molto meglio rispetto ad avere un Jovic in campo. Quindi con Abram rispetto a Jovic facciamo un salto in più. Giocatore ancora da decifrare. Perché ha giocato troppo poco per poterlo giudicare. Però mi ha dato una bella impressione. È entrato. Voglioso di far bene. E bravo. Comunque su quello non avevo dubbi. Abram è uno che si è sempre speso in campo. Anche con la Roma. Infatti molte volte i tifosi da Roma lo consideravano una pippa. Però dicevano. È comunque uno che ci mette l'anima in campo. E anche ieri l'ha dimostrato di voler far bene. Di voler inserirsi subito nel gruppo. L'ho visto cercare sempre il dialogo. Il suo 1-2. Potrebbe essere utile. Potrebbe essere utile. Spero di rimangiarmi le parole del video sulla presentazione di Abram. Fonseca. Voto 5. Ma li sto volendo bene. 5. Ma potrebbe essere uno 0. Decidete voi. È da 0 a 5 il voto di Fonseca. Non di più. Ho visto addirittura dare delle sufficienze. A un allenatore che non ha gioco. A un allenatore che non ha una fase difensiva. A un allenatore che ha peggiorato l'attacco del Milan. Perché prima almeno segnavamo. E adesso non segniamo nemmeno più. E non creiamo neanche così tanto. Perché il Milan prima segnava. Ma creava addirittura il triplo di quello che segnava. Adesso non segniamo tantissimo. Forse siamo addirittura più cinici in questo momento. Perché abbiamo meno occasioni. Ma facciamo più gol. Ma i gol sono pochi. È un allenatore che non ha la fiducia della società. Si è abbastanza capito. È un allenatore che è stato messo lì come parafulmine. È un allenatore che nelle interviste post partita. Dice una minchiata dopo l'altra. È per me un allenatore così. Già vale mezzo voto in meno in ogni partita. È un allenatore che non ha la fiducia dei tifosi. Ma non l'ha probabilmente mai avuta. È un allenatore che in questo momento non ha neanche la fiducia di alcuni membri dello spogliatoio. Cioè quelli più importanti. E anche questo è un discorso che faremo poi. Ma non si può negare che in questo momento Fonseca non abbia fatto nulla di buono nel Milan. Non c'è niente di buono. A parte il fatto che magari voleva dimostrare di avere le palle. Ok. Ha messo fuori Teo Hernandez e Leao mettendo Terracciano e Ciucuese. Ok. Ha le palle. Ma a cosa serve questo? A penalizzare il Milan. Perché se tu giochi con Terracciano e non giochi con Teo Hernandez e Teo Hernandez quando entra in campo è scoglionato ancora di più, c'è un problema. Ai tifosi deve interessare la partita. Ai tifosi deve interessare il Milan. Io vedo tifosi commercialisti, tifosi psicologi. Vedo di tutto ormai. Ma il tifoso è tifoso. Ma dove cazzo sta quello che gli interessa della partita? A me Teo Hernandez deve giocare sempre. Chi se ne frega. Devono essere bravi a stimolarlo. Non è stimolato per i tifosi. Non è stimolato per la maglia che indossa. L'abbiamo capito. Non è l'unico. Pensate che le altre squadre i giocatori siano stimolati per la maglia. Sono tutti mercenari. Forse non l'avete compreso. Sono tutti dei mercenari. Però almeno vedo Teo Hernandez in campo che è anche scoglionato. Anche senza voglia. E sicuramente 46 gradini sopra a Terracciano. E infatti fa l'assist. Quindi credo che la scelta di Fonseca per me, quella pre-partita, è stata folle. È stata sbagliata. E credo che porterà degli strasci che in futuro, anche se loro hanno voluto sminuirla. E dal punto di vista tattico, non vedo dei cambiamenti. Sicuramente ho visto un primo tempo con un Milan un po' più compatto. Ma ho visto tanti demeriti della Lazio. Più che tanti meriti del Milan. Ho visto un 61% di possesso palla sterile con la Lazio che non ti veniva a pressare. Quindi quel primo tempo decente non è grande Milan. Non è passi in avanti del Milan. Ma vedevo una Lazio imbarazzante. Nel secondo tempo la Lazio ha iniziato a giochicchiare. E il Milan è andato completamente in difficoltà. Non riusciva a tenere un pallone. Addirittura Fonseca nel post-partita ha detto che la squadra aveva paura di subire gol. E quindi se il Milan hai paura di subire gol, hai paura di tenere la palla. Abbiamo giocato a lanci lunghi. Pavlovici nel secondo tempo avrà fatto 14 lanci. Non siamo riusciti a tenere un pallone. Un pallone! Sempre anticipato. I giocatori della Lazio nel secondo tempo arrivavano sempre prima di noi. E questo è un problema serio ragazzi. Perché qui non si tratta se la squadra è forte, se la squadra è scarsa. Qua è proprio un problema mentale. Questi hanno la paura. Fonseca ha detto che questi hanno paura. E quando tu hai paura, l'avversario arriverà sempre prima di te. Le tue gambe tremeranno sempre di più. Sarai sempre lì impanicato quando vedrai gli attaccanti avversari che ti stringono. Quando vedi la palla sull'esterno che sta per crossare. Tu sarai sempre nel panico. Non hai la mente libera. E questo è un problema grave. E questo è quello che devi risolvere un allenatore. Se è decente. Quindi vediamo. Ma per adesso Fonseca strabocciato è un Milan strabocciato. Lasciate like, iscrivetevi al canale e se vi va lasciatemi watch. Bella.